una buona serata a tutti amici di super j la perturbazione fredda proveniente dal nord europa è già in azione al nord italia dove si sta formando anche un minimo sul golfo ligure che si sposterà nelle prossime ore soprattutto nella giornata di domani verso sud sarà una domenica piovosa un po su tutta l'italia e soprattutto saranno le temperature a fare notizia perché scenderanno in modo significativo al nord italia e con gradualità sulle regioni del centro sud per quanto riguarda la nostra regione sarà una domenica certamente perturbata con piogge insistenti sulle regioni occidentali e irregolari su quelle del versante adriatico la ventilazione diverrà piuttosto sostenuta sui monti dei quadranti occidentali e poi tra la sera notte di domani di tramontana il mare sarà mosso o poco mosso le temperature minime di questa notte saranno comprese tra 7 e 14 gradi mentre le massime di domani inizieranno a diminuire seppur non di molto e saranno comprese tra 13 e 20 gradi l'appuntamento con la rubrica meteo e per lunedì prossimo buon weekend a tutti